Buonasera a tutti, sono Luigi Naracu con i capelli sempre alla cazzo di cane come ogni volta inizio un video e benvenuti a un video molto atteso dovevo uscire domani ma ho visto in giro una marea di analisi di Goan LR che non erano altro che un video copio incollato da quelli usciti da Dokkan Stats per esempio nel video della special, il video in cui si vede com'è, lo attaccavano, non parlavano un minuto di video quindi mi son detto perché non fare un video per far vedere come è veramente un'analisi fatta di un PG e quindi eccomi qua, Goan LR ragazzi, Goan LR c'è tanto da dire analizzeremo le versioni Tour e LR in quanto sono le due giocabili, la versione SSR lasciamo perdere, dirò qualcosa dicevo, partiamo da dire come si prende Goan LR è pullabile in una qualsiasi batch in cui vengono utilizzate le stone a partire dalla Rising Dragon uscita questa mattina e in futuro, quindi non è ottenibile in San Valentino e in Super Saiyan 4 Dokkan Fest con un rate inesistente, cioè non ha rate up vi ricordo che un PG senza rate up ha lì in circa lo 0,08%, 0,1% facciamo esagerando di rate ed uscire in ogni batch con le stone sarà quindi possibile trovare Goan tranne in quelle limitate a solo determinati PG, in quel caso non sarà possibile quindi non buttate stone a Rising Dragon sperando di trovarlo prima o poi lo troverete, forse no va molto a culo con i rate attuali, uno 0,8% vediamo nella prossima batch come andrà la SA è farmabile tramite Goan Baba, tranquilli, si ha l'Intex e TR quindi vedete voi come farmarla, ma il PG non è un granché passiamo invece a vedere com'è la versione Tour allora, eccolo qua, 9994 HP per 9365 attacco e 4609 di difesa per un costo abbastanza alto di 50 e un km2, 112, 140% siamo davanti a un nuovo god leader int leader skill uguale a Buan, più 3 ki e stati più 70% agli int facile, veloce, indolore purtroppo a differenza di Buan di cui ha presa poco anche la stessa passiva non ha la parte buona la passiva è Nuker più 15% attacco per ogni orb preso ragazzi, a rigor di logic questa versione Tour serve solo ad andare a LR oppure come leader in mancanza di Buan è un PG presa poco inutile peggior god leader del gioco ad oggi è molto meglio Broly di questo qua in quanto non fa nulla di particolare è un Nuker carino, 15% ma è carino e sia farmabile, ma è carino ma è niente di eccezionale non vedo nulla di particolare in questa forma è giocabile in un Nuker DPS int già in questa forma ma perde molta molta forza i link i link, i link, i link, i link Super Saiyan, KMMA, Gaze of War Expect Shocking Speed, Radiant War Super First Battle quindi è anche bello pieno di link può linkare facilmente un bel più 6 chi in team full super giocando piccolo LR o full int sempre giocando piccolo LR HMMA, Super Saiyan è un gran gran bel PG nei link la special a SA1 parte con 250% per 11k per 16-430% per 20k mi sa tanto che questi valori almeno nel caso dell'SSR di avere purtroppo i valori non maxato il PG aspettate un secondo potremmo andare su The Blizzard Space purtroppo problemi a internet sul PC quindi stavo utilizzando le immagini che avevo che a questo punto sono anche sbagliate quindi vediamo un attimino JAP ok card Gohan 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 apri un'altra scheda ok ecco qua Gohan allora 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 maxato ecco SA1 32.000 per 250% e SA10 430% per 56k non so se riuscirò a mettervi le le schedine giuste nel caso seguite quello che vi dico non i dati che vedete in pagina il nostro carissimo Gohan ha una facoltà speciale naturalmente la sua special non è semplicemente questo ovvero che al momento del lancio della special per quel turno aumenta di molto l'attacco non si sa di quanto io penso uno 0.5% mio dio Priscilla che faccia che hai sei spaventoso però risulta comunque un buon DPS non mi piace come PG se devo dire la mia non mi piace ma sono gusti totalmente personali però le cose cambiano andando a vedere la versione Tour andando a vedere la versione LR là le cose cambiano parecchio questa versione Tour come vedete non l'ho valutato un granché lo reputo troppo inferiore a Buam però può essere un'alternativa valida a Mirai Trunks l'int in Team Full Super là o qualcosina può essere ma anche in quel caso non lo vedo giocabile dicevo le cose cambiano parecchio per la versione LR ragazzi siamo davanti a uno dei migliori PG del gioco insomma di dubbio felice di aver aspettato a fare le top in previsione della possibile uscita di qualcosa di interessante usciranno comunque entro la fine del mese tranquilli mi ci metterò a lavorare questo fine settimana sperando nella connessione e andiamo a vederlo 15200 HP per 16975 attacco 8806 di difesa per un costo di 77 essendo pullabile l'hanno leggermente diminuita un chi metter 200 12 200% 324 dovrebbe essere sul 300% ma non ho dati sicuri siamo di fronte al LR al legendary god leader int mi piace chiamarlo così anche se attualmente non si sa se ne usciranno altri leader migliorata rispetto a quella di buone nella sua versione tour da più 3 key e statistiche più 90% agli int totalmente devastante come passiva viene dato a un team che comunque aveva bisogno di un bust in attacco anche se in difesa non è più il miglior team del gioco e questo migliora soltanto gli da un ottimo bust in attacco che lo porta a superare penso un team str oramai parlo dell'str omega dell'str con super saiyan 4 è da vedere come potenza offensiva sempre non in totale di sicuro è un miglioramento la passiva è divisa in due parti la passiva è divisa in due parti e prende una nuova meccanica di gioco prima parte per ogni equip che prende più di 18% d'attacco e nuker anche lui il miglior nuker del gioco in quanto a danni e si sa la seconda parte è una nuova categoria di passive che io ho messo se non sbaglio come key bonus ogni volta che lui prende un key aumenta di 1 il key per spiegarvelo prende un key blu guadagna 2 key rende quindi i key normali i key blu i key arcobaleno come fossero i key viola i key viola valgono 3 key migliorando ulteriormente grandissima passiva mi aspetto dei leader che abbiano questa passiva come leader skill e mi sopporto dei nuovi pg con questa passiva Atosama ha pubblicato le mini immagini quelle che sto usando io per mettere qua per anche eventuali chi più 2 chi più 3 mi aspetto tanti bei nuovi pg interessanti con questa meccanica andando invece a parlare dei link sono gli stessi dell'altra sua versione abbiamo quindi dato un secondo che li ritrovo perché sto usando tutta roba molto più terra terra per fare questo video che volevo però uscisse assolutamente stasera e si spera uscirà stasera i link sono Super Saiyan Kamehameha Gaze of Respect Shocking Speed Ready at War Super First Battle Power of Legend quindi esattamente come lo scorso ma Power of Legend il team in cui gira meglio è senza ombra di dubbio il full int grazie all'utilizzo di piccole che non occupa uno spazio eccessivamente dedicato in quanto si gioca in full int funziona abbastanza bene anche in full super seppur in full super iniziamo a sentire la mancanza di un leader decente perché iniziamo ad avere troppo dislivello tra l'utilizzo di un pg super con doppio veget doppio trunks o doppio god leader o neo god leader quindi il team super è carino ma non raggiunge secondo me il benché minimo potenziale che potrebbe avere grazie a lui nasce un nuovo tipo di team int come ho detto prima il DPS nuke che arriva a nukeare penso qualsiasi creatura esistente nonostante tutto le nuke non sono vive ragazzi in quanto per nuke si intende un team formato da doppio leader nuke e da nuker in questo caso abbiamo una nuova tipologia di nuke la DPS nuke che in realtà è sempre stata giochicchiata ma mai come team ufficiale che da adesso nasce un team ufficiale DPS nuke con questo pg è facile da pensare doppio goan lr buan piccolo gokura sangan trunks rage e volendo per l'ultima posizione si va un attimino a preferenza io metterei janemba per avere un tank e quindi la sicurezza matematica della vittoria ma potrebbe essere benissimo giocato un c18 un c13 un vegeta blu seppur con un rivo di questo pg ulteriormente non lo vedo come pg interessante o si volge altro pg shocking speed un ace sharon un arale per debuffare un bardak può essere un'ottima scelta che pensa anche a silare l'avversario oppure un knocker per le fasi iniziali davvero niente male il dps migliore del gioco ma non lo considereremo in classifica dps in quanto come ben sapete i nuker sono tolti da questa classifica anche se ad oggi la classifica dps come già vi ho spiegato non può essere fatta perché abbiamo tre colori che hanno un dislivello assurdo rispetto agli altri quindi le top dps aspetteranno e cos'altro vi posso dire davvero buono ma naturalmente prima che me ne dimentichi c'è ancora la special perché anche sulla special c'è qualcosina da dire allora la special la special party è se 1 354% per 118k e se ha 10 440% per 149k e se ha 25 40% per 183k nuova special più grossa del gioco qualcosa di non so neanche io come definirlo davvero qualcosa di davvero davvero enorme non ho altre parole per definirle e abilità speciali l'abilità speciale numero 1 è che andiamo a riprendercela allora 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 dai 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 Cristo santo eccolo qua la special aumenta sempre di all'incirca il 50% la sua il suo danno a 18k aumenta ulteriormente il danno la sua special 18k e a 20 abbiamo un ulteriore aumento del danno i milioni sono pochi qua si parla di decine di milioni in team DPS ragazzi davvero avevo fatto il calcolo con statistiche più basse perché pensavo avesse un multiplier molto più basso alla special e mi arrivava no nuke a più di 3 milioni di attacco base nuke a 5 milioni la verità sarà che arriva oltre 4 milioni di attacco base dato i dati arriverà a 6-7 milioni con la nuke davvero davvero niente male grandissimo pg approvato come trovarlo pullate per altri pg se vi esce sorridete non pullate apposta per lui sono una marea di ston buttate detto questo vi ringrazio per avermi seguito vi invito ad andare nei link qua in descrizione per avere informazioni su rano su altre cose quello instagram vi ricordo che sarebbe uscire oggi ma questo problema di internet impedisce di farlo domani inizierà un contest per i 3 mila iscritti al canale purtroppo è solo per i giocatori jap che sono una minoranza sul mio canale ma spiegherò nel contest come mai quindi rimanete in in allerta sperando che questo problema di internet finisca e questo video vada online ci sarà quindi questo contest vi ricordo il link dei gruppi facebook quello già per necessario per partecipare al contest quindi devi iscrivervi se non siete ancora iscritti e infine il link delle donazioni se volete supportare il canale e vedere video pool dio mio ti prego guarda priscilla ragazzi no un secondo ci sono certe foto che vanno fatte per il bene dell'umanità no perché eri bruttissimo peccato dicevo link in descrizione per donare nel caso vogliate supportare il canale e vedere video pool sono maggiorenni e vi ricordo che il 27 ci sarà la live per festeggiare i 3000 iscritti al canale e il terzo compleanno di priscilla detto questo ci vediamo domani per il global con il video dove pullare alla prossima sempre che questo video in realtà non si è uscito domani e il video come pullare è uscito ieri perché l'avevo già caricato non pensavo ad avervi problemi a internet staremo a vedere grazie a tutti ieri grazie a tutti ieri a tutti ieri a tutti ieri grazie a tutti ieri grazie a tutti ieri